E' a Betone che per la montagna pistoiese si è svolta la protesta delle aziende del terzo settore che chiedono di poter tornare a lavorare dopo un anno disastroso, in particolare su questo territorio già affiaccato da un'annosa sofferenza per l'economia. Prima ancora c'è che l'emergenza Covid innescasse una crisi senza precedenti. Le aziende non riescono più a sopravvivere. C'è assoluto bisogno di ristori certi, sicuri e importanti. C'è assoluto bisogno di una moratoria fiscale e c'è un assoluto bisogno di riaprire in sicurezza rispettando tutti i protocolli ma cercando di lasciare le aziende in condizione di poter lavorare. Se queste tre condizioni non saranno rispettate purtroppo il rischio è quello di trovare in montagna un assoluto deserto sia economico che sociale. I ristori che sono arrivati purtroppo non bastano neanche per pagare le tasse dovute quindi l'unica soluzione è poter lavorare. Lavorare in sicurezza, ci siamo adeguati per l'estate, abbiamo fatto tutto ciò che era richiesto. Abbiamo avuto un calo del fatturato di oltre il 90% perché logicamente con questa situazione qui la gente non va più a giro e noi non lavoriamo. Quello che chiediamo è di poter ripartire in sicurezza. Noi MES abbiamo subito la prima ingiustizia come tutti che è stata quella di non poter aprire e lavorare. La seconda perché purtroppo ha potuto lavorare una parte che sono gli allenatori e è bene che abbiano lavorato, noi siamo contenti, ma allo stesso modo era giusto poter lavorare anche noi maestri altrimenti si rischia che le sci club si sostituiscono alle scuole di sci che sono quelle che sono addette proprio a insegnare ai ragazzi e portarli all'agonismo. Ristorare tutto quello che abbiamo perso sarà impossibile, quindi dopo un anno perso, dopo un anno buttato alle ortiche risiamo nella stessa situazione nello scorso anno anche peggio. Quindi probabilmente va rivisto i criteri delle chiusure e delle riaperture. Non è pensabile ristorare il danno che è stato fatto in montagna, dove alla normale chiusura, in zona rossa, in zona arancia, abbiamo associato anche la chiusura degli impianti.